Un dolce nuovo capitolo, Diletta Leotta accoglie la sua principessa nel mondo. Sotto il caldo sole estivo, con la stagione calcistica ormai conclusa, la famosa giornalista Diletta Leotta e il portiere Loris Carius stanno finalmente godendosi una meritata pausa al mare. Ma è durante una tranquilla giornata in spiaggia che qualcosa di straordinario accade, strappando un sorriso di gioia e commozione dal volto di Diletta. Il suo telefono improvvisamente squilla, interrompendo la sua tranquillità. L'emozione la travolge quando riceve una notizia tanto attesa. Diletta è diventata zia. È il suo adorato fratello Mirko a regalarle questa gioia, diventando padre della piccola Sveva. E il destino sembra giocare a favore della famiglia, poiché Diletta sta per dare alla luce una bambina che sarà coetanea del suo cuginetto appena nato. Un fatto sorprendente è che il fratello di Diletta vive praticamente nello stesso palazzo, quindi non ci sono dubbi sul fatto che potrà godersi appieno l'amore della sua adorabile nipotina. Non c'è nulla di più speciale di vedere crescere insieme due bambine che condivideranno non solo il legame di cugine, ma anche di essere nate nello stesso periodo. Al momento, Diletta Leotta e Loris Karius vivono separati, con lei a Milano e lui a Newcastle. Tuttavia, con la nascita imminente della piccola, è probabile che i due si riavvicineranno ancora di più. È interessante notare che Diletta e Loris si sono conosciuti in un locale a Parigi e da allora non si sono più separati. L'arrivo della loro bambina sembra essere il collante che li unirà ancora di più, forgiando un legame familiare ancora più forte. Mentre Diletta continua a emozionarsi per la dolcezza di essere diventata zia, i suoi fan non vedono l'ora di accogliere la sua piccola nel mondo. I social media sono impazziti con congratulazioni e messaggi di affetto, mentre i fan non vedono l'ora di vedere le foto delle due adorabili cuginette insieme. Questo momento speciale nella vita di Diletta Leotta sottolinea ancora una volta il suo legame familiare e il suo desiderio di condividere la felicità con coloro che ama. La sua carriera di successo e la sua vita personale si intrecciano, creando una storia che affascina e ispira i suoi numerosi seguaci. Mentre Diletta si prepara ad accogliere la sua bambina e a immergersi nella gioia di diventare madre, tutti si uniscono a lei per celebrare l'arrivo della piccola Sveva e l'imminente nascita della sua stessa bambina. Sono momenti preziosi che rimarranno impressi nella memoria di Diletta Leotta e nella storia della sua famiglia per sempre. Grazie a tutti voi per averci seguito in questo straordinario viaggio. Speriamo che l'articolo e il video vi siano piaciuti. Se volete restare aggiornati su tutte le novità riguardanti Diletta Leotta e le sue avventure, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.